Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, è morta nelle scorse ore la grande cantante italiana in questo video. Parliamo di una grave perdita che colpisce la musica, ma anche la cultura popolare italiana e prima in saperne di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo in questo video con grande rammarico. Comunichiamo una grave perdita per l'Italia intera a 93 anni e mancata la star globale italiana. Caterina Valente, cantante ma anche Showgirl, probabilmente è stata la cantante più famosa al mondo negli anni 60 e 70, la più ammirata in Sud America, ben prima di Raffaella Carrà, ha duettato con mostri sacri del calibro di Louis Armstrong, Ella Fitzgerald e Dean Martin, ma è stata innanzitutto un grande personaggio televisivo, ha condotto programmi popolari in Italia, in Germania e in altre parti d'Europa. La ricordiamo, tra le altre cose, per la sua hit Bongo Chachachà, che nel 2021 è stata riproposta e, a distanza di 60 anni, ha scalato ancora una volta le classifiche musicali. Primo ai Marco Liguori, con tutto il dispiacere del mondo, ricorda un grandissimo personaggio, una cantante e un artista che ha inciso molto sulla cultura popolare italiana, Caterina Valente, scomparsa nelle scorse ore a 93 anni. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul secondo me Marco Liguori, il canale dei video di cronaca, seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale. Ciao!